Antonio Palumbo, primo giorno di scuola, come si dice, si riparte, con quali ambizioni e motivazioni? Le ambizioni le ha già dette la società, cercare di andare in Serie A, quindi non penso ci sia discutere su questo. Sei già carico, perché comunque già ti sei allenato da qualche giorno, ti stai già allenando da qualche giorno a Terni, se non mi sbaglio. Sì, ma come penso tutto il resto della squadra si sia allenato, chi è a casa sua o chi è in vacanza, io vivo qui, quindi l'ho dovuto fare qui. La voglia è sempre la stessa, anche di più degli altri anni, perché quest'anno dobbiamo cercare di non fallire. Vacanze cortissime, siete stati la prima squadra, anzi l'ultima squadra, escludendo le squadre dei play-off, a chiudere, siete praticamente i primi a radunarvi. Ok, ma credo che un mese di vacanze vada più che bene, siamo previaggiati, gli altri fanno 15 giorni. Senti, l'ultimissima cosa, tante società, o almeno secondo i rumors di mercato, ti hanno accostato a tante società, qual è il tuo parere di merito? Ma io non so nulla, queste sono cose che si vede il mio procuratore, io penso solo ad allenarmi a fare bene, basta.